Salve, salve da Marco Calabro per il conto di Amaci Casa. Siamo entrati nel padiglione numero 2 della fiera del mobile di Roma, il Moncato. Stiamo vedendo, qua cominciamo con il nostro giuppetto, con i nobili praticamente, una serie di aziende di cucina. Vediamo Frattali che sta presentando Arital, che è un'azienda che nel corso dei decenni ha completamente cambiato le sue caratteristiche di design nel mercato. L'azienda viene presentata oggi qua da Frattali, che è un nome storico dell'arredamento a Roma. Dall'altro lato vediamo i nobili. Vediamo Moschella che sta presentando Storsa Cucina. Veramente belle ormai queste nuove proposte di Arital che sono presentate qui da Pino Frattali. Come dicevamo Moschella che sta presentando Stosa. Un'altra azienda di riferimento del mercato nazionale, Veneta Cucina. Qui presentata da un nome storico italiano che è la Binacci. Un nome veramente storico che continua a perpetrare la sua tradizione pur essendo venuto a mancare il fondatore. veramente molto gradevoli queste Cucine di Veneta Cucina. Abbiamo avuto anche maniera di visitare lo stand all'Euro Cucina a Milano e sicuramente insomma stiamo parlando di un'azienda in termini di design estremamente attenta. Vallati Innocenti quest'anno presenta Valpocina che è un'azienda che ha sempre avuto la prerogativa di essere all'avanguardia, assoluta e per certi versi quella che ha iniziato a parlare, a proporre un design realmente d'avanguardia e funzionale nel settore dell'arredamento italiano. Poi vediamo soluzioni maestri, soluzioni maute. Come ho detto ci stiamo interessando per la parte delle Cucine di questo secondo patiglione. allungo un po' il passo qui la doiamo in cucina presentata dalla Cucina a Po Doim è un altro nome storico del mobile in Italia qua un altro nome straordinario, Snyder ci ricordiamo negli anni 70 l'innovativo progetto Idea un marchio, un brand che è sempre stato abbinato con nomi straordinari come quello di Pimifarino e che viene presentata quest'anno da poltrona qui abbiamo marchi di cucina anche Snyder l'abbiamo avuto modo di vederla dall'Eurocucina con prodotti veramente sempre all'avanguardia in termini di design qui ha un nome notissimo quello di Scavorino è un po' di più e un po' di più e un po' di più e un po' di più quello che vediamo è lo stand di scavoli stiamo praticamente per uscire dall'area stiamo vedendo spagnolo e stiamo entrando adesso nell'area dell'area bagni e stiamo praticamente uscendo dall'area delle cucine questo era il padiglione numero 2 della fiera di roma il mua casa la parte dedicata alle cucine grazie sempre per ascoltare i video di amaci casa età e arrivederci al prossimo grazie